Morte per cause naturali. Il GIP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini ha così archiviato il caso per il decesso di Marco Mazzeschi, l'imprenditore aretino che morì a Dubai nella notte tra il 29 e il 30 ottobre del 2022 nella casa della fidanzata che lo ospitava. Il giudice per le indagini preliminari ha adesso accolto la richiesta di archiviazione della PM Emanuela Greco. Sulla vicenda era stata aperta un'inchiesta. Era stata indagata la compagna del 44enne per omicidio preterintenzionale. Le indagini partirono da un esposto presentato dai familiari di Marco Mazzeschi dopo il rientro della Salma in Italia. La procura dispose così l'esame autoptico ed altri accertamenti dei quali non emersero segni di violenza. A stroncare l'uomo sarebbe stato un problema cardiaco acuto ed improvviso. La posizione della compagna dunque è risultata estranea all'accusa.